La crescita delle imprese, la trazione degli investimenti, l'innovazione tecnologica e le politiche per l'occupazione. Sono solo alcuni dei temi trattati ieri dalla Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni, coordinata dalle Marche, che si è confrontata in modalità online con Giancarlo Giorgetti. Il Ministro dello Sviluppo Economico ha focalizzato il suo intervento sull'assoluta necessità di una collaborazione con i territori. Per la prima volta, ha commentato il vicepresidente Mirko Carloni, è stata manifestata una disponibilità non comune a lavorare insieme. Le Regioni devono essere protagoniste in vista soprattutto dei recovery plan. La pandemia ha provocato un'emergenza sanitaria, ma anche grave ripercussioni sull'economia. Alcuni settori sono colpiti in modo stabile da oltre un anno. È necessario affrontare con coraggio e con impegno la crisi. Il lockdown, ha detto Carloni in videoconferenza con la stampa, ha provocato effetti economici devastanti e non si può più chiamarla emergenza perché questa è di carattere temporaneo. Nell'incontro con Giorgetti si è parlato anche di ristoro rispetto al fatturato. Ad aprile, annunciato, ci sarà un altro decreto. C'è una sofferenza economica e psicologica. Le palestre, ad esempio, hanno subito delle perdite importanti e hanno dei debiti verso i clienti a cui dovranno far fronte alla riapertura. Il danno è la beffa, ha commentato Carloni. Stessa situazione per gli ambulanti, il settore fieristico, bar e ristoranti. La perdita di fatturato non è più sufficiente come valutazione. Poi, l'accesso al credito. Molte banche, ha proseguito il vicepresidente, nonostante le garanzie e i confidi, non concedono credito per evitare ulteriori indebitamenti. Inoltre, Carloni ha fatto presente al ministro i nuovi investimenti che passano per la defiscalizzazione e la crescita dimensionale delle imprese attraverso una progettualità che è quella delle filiere, cioè un nuovo modello da realizzare individuando gli ecosistemi più strutturali, creando così un rafforzamento logistico, finanziario e tecnologico. I settori individuati sono quelli della meccatronica, del fashion e del food. Inoltre, il ritardo di oltre tre anni della banda ultralarga, un problema detto di cui il ministro deve farsi carico. A ribadire l'importanza di un lavoro in sinergia è stato il presidente Francesco Acquaroli. Le aziende cercano nella regione un'intermediazione con il governo centrale. In questo periodo, ha dichiarato il governatore, abbiamo svolto un lavoro di ascolto con le associazioni, le categorie e le imprese duramente colpite dalla chiusura. Da una parte c'è la paura di non farcela, dall'altra la voglia di ripartire. Dobbiamo essere il collante che possa rappresentare le risposte ai mundi che fanno affidamento su di noi. Il lavoro di squadra è stato ribadito oggi anche dal premier Draghi. C'è una esasperazione importante, ha commentato Acquaroli. Servono meno polemiche e più capacità di rappresentare il senso delle istituzioni. Questo deve avvenire con un dialogo e un confronto fatto anche di critiche costruttive. In chiusura, il presidente ha commentato la volontà del governo di intervenire sugli operatori sanitari che non vogliono vaccinarsi. Il vaccino è una grande arma per arginare il virus, ha affermato il governatore, ed è una possibilità di rilancio economico. Attendiamo di capirne di più e poi valuteremo i singoli provvedimenti.